Allora voi invece avete votato contro questo regolamento, perché? Quali sono le ragioni di questa decisione? Essenzialmente permettiamo che comunque un regolamento per gli arredi urbani nel centro storico è necessario per Fano, ma è stato sbagliato completamente il metodo e quindi poi ne ha risentito anche il contenuto di questa delibera. In effetti non sono stati in realtà coinvolti quasi assolutamente i commercianti che insistono nel centro storico, se non forse una minima parte, quindi ci sono visti calare dall'alto questo regolamento che è molto restrittivo purtroppo per loro, poi semmai spiegheremo anche perché. L'altro fatto è che appunto questo regolamento è stato calato dall'alto anche per i consiglieri comunali, quindi siamo stati completamente spogliati dal nostro ruolo istituzionale nel proporre oppure portare delle modifiche anche all'interno del Consiglio Comunale, con la scusa che ormai la sovrintendenza aveva messo il bollino sopra questo regolamento e non si poteva più cambiare. Quindi ci siamo ritrovati a fare dei passacarte, insomma per i cittadini che ci hanno eletti e che ci hanno dato un ruolo importante nel dare il meglio per la nostra città questo ci sembra molto sminuente. Quindi è molto importante capire che in realtà questo regolamento nasce con mille problematiche e non c'è stata data la possibilità assolutamente di metterci mano. Quindi i risultati quali sono? È un regolamento molto restrittivo con delle descrizioni molto minuziose degli arredi appunto che si devono usare e anche molto costosi molto probabilmente e quindi sarà anche molto difficile per molti commercianti che magari poi soprattutto in questo periodo di grave difficoltà economica mettere mano al riordino dei loro arredi e quindi anche si cerca a questo punto di capire se appunto il regolamento possa essere talmente tanto limitante da far chiudere addirittura delle attività e questo è un problema molto molto grave. La maggioranza è rimasta sorda ai nostri appelli di rimettere mano anche magari fra qualche giorno e poi riproporre il documento in Consiglio Comunale. Speriamo che i risultati non siano nefasti anche perché comunque sia in altre città ci sono dei regolamenti molto meno limitanti e aperti all'innovazione e dove i centri storici sono molto molto belli e quindi insomma da questo punto di vista si poteva solo migliorare.